Dal sondaggio Le Voci Contano, condotto su 850 pazienti onco-ematologici, emergono importanti lacune informative sulla malattia, sui percorsi di cura, sulle conseguenze sulla qualità di vita dei pazienti e sul consenso informato. L'indagine è stata presentata insieme alla neonata costola di Favo, la federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, che da oggi si occuperà anche dei tumori del sangue con Favo neoplasie ematologiche. Ne parliamo con Davide Petruzzelli, coordinatore del nuovo gruppo di Favo e presidente di La Lampada di Aladino Onlus. Quali sono le principali evidenze del sondaggio? Dal sondaggio emerge che non tutti i pazienti, anzi circa la metà dei pazienti, conosce le associazioni pazienti, l'altra metà no. Però poi ci accorgiamo che tra gli intervistati, coloro che dicono di conoscere l'associazione dei pazienti e di aver usufruito di un servizio, tutti, praticamente il 100%, ne sono assolutamente soddisfatti. Questa è la testimonianza di quanto siano fondamentali e importanti e di quanto serve però un pochino metterci tutti quanti a rete. Quindi capire il clinico che l'associazione dei pazienti può essere una risorsa e viceversa. Insomma, quello che raccontiamo sempre, questi benedetti stakeholder, quindi la persona al centro che decliniamo sempre nei congressi e che si fatica sempre poi a realizzare nella vita reale, passa anche attraverso questo. Quindi l'associazione dei pazienti erano, sono e dovranno sempre essere di più nel futuro stakeholder a tutti gli effetti perché ne hanno titolo e sono passati soprattutto attraverso quello che mi piace definire una scienza laica, cioè chi ha vissuto sulla propria pelle la malattia e quindi la può raccontare davvero. Che è una scienza che non puoi trovare su alcun libro di studio perché devi averla sperimentata. Questo è un valore aggiunto che non può essere disconosciuto e che secondo noi assolutamente serve molto al sistema anche in termini di sostenibilità futura. Perché c'è questo deficit informativo? Il deficit informativo in realtà è un deficit informativo su più livelli. C'è anche un paradosso, abbiamo questo bellissimo strumento oggi che è il web che ha molto ridotto la distanza che c'era nel rapporto medico-paziente, ma ha creato anche dei grossi problemi. Ha creato dei problemi in quanto il paziente spesso non ha gli strumenti per poter leggere e discernere soprattutto il tipo di informazione che ne deriva. Quindi a volte si va a leggere ciò che noi vorremmo trovare scritto. Siccome le informazioni sono tantissime facilmente... Questo è uno dei problemi sicuramente. Cosa sarebbe bello? Sarebbe bello lavorare poi con queste realtà come in altre parti del mondo fanno. Mi leggo qualche cosa su internet, lo condivido con il mio clinico, lo condivido con il mio medico di base e cerco di capire tra quello che ho capito io e quello che mi racconti dal punto di vista scientifico, tu quale sarà la mia prospettiva. Un altro dei temi importanti che è emerso è il ruolo del medico di medicina generale, quindi il cosiddetto medico di famiglia, che purtroppo i pazienti lamentano, lo sentono un po' poco di accompagnamento nel percorso. Invece è importante ricordare che grazie a Dio le terapie, quando mi sono curato io vent'anni fa, si passavano due settimane in ospedale e una a casa. Questa era la tempistica. Oggi si passano due ore in ospedale e tutto il resto del mese a casa, quindi la vita della persona continua nella propria quotidianità, nell'ambiente familiare, casalingo e di lavoro. Quindi è importante che ci sia un'attenzione anche a questo. Il riferimento diventa il medico di medicina generale, quindi in prospettiva dobbiamo ragionare che la triangolazione specialista, medico di medicina generale e paziente sia sempre più amplificata e messa a sistemi.